amici di le fonti tv bentrovati a questa nuova puntata di new insurance e oggi parliamo di rischi come leggete nel nostro titolo in sovrimpressione dobbiamo fare una premessa prima di dare il via a un dibattito che sarà decisamente molto interessante perché dobbiamo riferirci ancora una volta al contesto economico di mercato in cui ci troviamo inseriti una premessa che facciamo per tanti settori oggi lo facciamo anche per il comparto assicurativo perché parliamo di rischi perché naturalmente dopo il 2020 il 2021 parte del 2021 che stiamo ancora vivendo ci siamo trovati di fronte a degli scenari completamente diversi in cui proprio il concetto di rischio è cambiato e rischi che già c'erano prima si sono aggiunti quelli legati alle nuove tecnologie a tutto l'impianto digitale che abbiamo dovuto utilizzare e con cui abbiamo dovuto prendere confidenza appunto in questi due anni particolari e quindi dobbiamo valutare effettivamente che cosa si è aggiunto dobbiamo comprendere tutte quelle che sono le potenzialità di questa evoluzione di questo cambiamento ma anche quali sono i rischi appunto ancora questa questa parola chiave alle aziende di settore le aziende leader è proprio richiesto di avvicinarsi a questo cambiamento di essere al passo con i tempi per dare una risposta sempre pronta alle diverse esigenze esigenze che si sono ovviamente moltiplicate e che sono aumentate quindi bisogna sicuramente pensare di cambiare strategie in che modo bisogna cambiare prospettiva a partire proprio da tutti i cambiamenti sociali culturali ambientali tecnologici sono stati tantissimi quelli che abbiamo visto appunto nel corso del 2020 e in parte di questo 2021 quindi cosa aspettarci per poter adeguare ciò che sono le nostre conoscenze ai bisogni effettivamente di chi ci sta di fronte quindi per far fronte a tutte le richieste in modo assolutamente consono allora io vi presento subito gli ospiti che ne parleranno con me avremo un quadro davvero completo saluto josef bala direttore generale amissima vita grazie per essere con noi ben trovato buongiorno a tutti e grazie per l'invito grazie e saluto andrea andretta sio arag giorno grazie per l'invito grazie a lei riccardo ciccozzi director market development europe in best grazie per essere con noi grazie buongiorno felice di essere di nuovo con voi e saluto josé antonio berenguer financial analyst analytics in best grazie buongiorno grazie per l'invito grazie allora cerchiamo di dare quanto più una panoramica completa rispetto a quella che è una premessa sicuramente molto generica ma che già credo abbia toccato dei punti fondamentali io partirei proprio con un primo giro di domande e le rivolgerei a bala e andretta la pandemia questo è in dubbio ha sicuramente rappresentato un acceleratore in generale proprio di cambiamento in particolare per quanto riguarda una maggiore attenzione verso temi che hanno a che fare con la sostenibilità quindi politiche di economia circolare e dei criteri esci possiamo parlare di questa nuova consapevolezza cioè che serve assolutamente in questo momento per rappresentare un modello innovativo e come questa consapevolezza rientra nella vostra società partiamo da bala buongiorno ma allora come diceva lei il covi del post pandemia ha rappresentato un elemento di grande accelerazione addirittura di discontinuità rispetto al passato partendo da qualche dato di fatto che rafforza il contenuto di discontinuità della pandemia abbiamo in grande maggioranza dei nostri clienti quindi assicurati un cambio dei comportamenti delle aspettative e quindi l'ultima analisi dei valori abbiamo quindi un cambio delle gerarchie valoriali questo a cascata ha determinato sta determinando sempre di più un cambio anche nei driver di scelta dei 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 consumatori con un peso sempre maggiore del del driver relativi alle costo sostenibilità che sta prevalendo rispetto ai driver più classici della qualità e del prezzo dei prodotti o dei servizi siamo richiesti da dai clienti e stanno emergendo nuovi driver o meglio stanno acquisendo un peso sempre maggior nuovi driver come la ricerca della salute della sicurezza un altro elemento importante è questo determinato della pandemia in senso stretto soprattutto da dal periodo iniziale diciamo dal lockdown duro che abbiamo vissuto nel 2020 la propensione l'utilizzo dei canali diciamo ibridi quindi l'acquisto da remoto di qualunque bene e servizio inclusi i servizi assicurativi stanno cambiando di conseguenza al cambio valoriale le preferenze di consumo dei dei nostri nostri clienti con un'attenzione sempre maggiore a consumi responsabili quindi attenzione agli sprechi e consumi rispettosi dell'ambiente e per quanto riguarda poi il settore diciamo finanziario quindi prodotti offerti da banche assicurazioni società di gestione del risparmio aumenta la attenzione a offerte commerciali che che diciamo promuovono la sostenibilità in senso ampio quindi la sostenibilità ambientale sostenibilità sociale l'attenzione a tematiche di governance quindi questi sono diciamo i quattro principali driver di discontinuità introdotti dalla pandemia questo per quanto riguarda la strategia di ammissima vita non necessariamente ha comportato un cambio di strategia ma un rafforzamento dei cambiamenti della nostra della nostra regia e anche un rafforzamento direi del della nostra mission noi siamo un assicuratore vita e quindi abbiamo un ruolo importante nella società il ruolo principale che abbiamo quello di proteggere i risparmi nel lungo termine quindi la pandemia se vogliamo ha rafforzato questo questo ruolo ma scendendo un po più in particolare noi stiamo lavorando molto sui temi della protezione quindi sia protezione del risparmio ma anche protezione dei rischi in caso di morte introducendo nuove nuovi prodotti nuove garanzie all'interno del nostro catalogo stiamo sviluppando per quanto riguarda l'offerta di prodotti unit linked prodotti un'offerta ISG quindi totalmente ISG compliant ovviamente c'è una crescente attenzione nel all'interno del nostro portafoglio investimenti di circa 7 miliardi agli investimenti sostenibili oltre l'80% dei nostri investimenti sono ISG compliant secondo l'MSI index e il nostro portafoglio investimenti avrebbe un rating A secondo l'MSI index stiamo introducendo prodotti long term care come risposta crescente concreta al crescente aumento della spesa out of pocket dei consumatori italiani e vediamo anche con con interesse stiamo sviluppando soluzioni di previdenza complementare per rispondere e contribuire al gap diciamo a colmare il gap previdenziale in particolare sui giovani quindi sugli under 40 per cui come dicevo prima un rafforzamento della nostra della nostra mission un'accelerazione anche nel cambiamento degli strumenti con cui raggiungere e soddisfare la nostra mission aziendale il nostro ruolo nella società certo certo beh poi ciascuno effettivamente no declina il cambiamento a seconda di chi si trova di fronte e a seconda delle strategie che sono state messe in atto fino a quel momento a questo punto vado proprio da Andretta è chiaro che questa è una situazione con cui tutti dovremmo fare i conti sono situazioni nuove a cui tutti dovremmo rapportarci a lei per noi sicuramente si tratta di un cambiamento molto importante come per tutte le imprese la sostenibilità in generale ha un impatto su di noi così come ce l'ha sugli altri mercati sulle altre industrie in particolare sull'assicurazione poi nel nostro caso in modo particolare perché è collegato al tipo di modello di business al modello di business che noi abbiamo per quanto riguarda gli impatti generali spesso riflettiamo parlando di assicurazione di sostenibilità tendenzialmente più sui rischi emergenti che sono sicuramente fondamentali e sugli aspetti legati alle emissioni però in realtà i temi della sostenibilità avranno un impatto vastissimo trasversale riguarderanno i regolamenti che fa bisogno dei capitali le modalità in cui vengono gestiti gli investimenti e riallocate le asset class le modalità in cui si fa innovazione e si fanno prodotti con un impatto economico molto molto rilevante perché gran parte degli investimenti saranno investimenti che arriveranno dal settore dalle imprese ma anche dalle famiglie quindi tutto questo impatterà su di noi al tempo stesso dato che noi ci occupiamo di tutela legale io mi occupo della branch italiana del gruppo Arag ma siamo un gruppo multinazionale che ha 80 anni di storia basati su una mission fondamentale che è quella di consentire l'accesso alla giustizia alle persone indipendentemente dalle proprie condizioni economiche e dato che l'accesso alla giustizia è proprio uno dei temi mi pare siano 17 i principali capitoli della sostenibilità che sono in questo momento all'attenzione dell'ONU proprio l'accesso alla giustizia è uno dei temi fondamentali quindi per noi la sostenibilità in generale impatta anche sul modello di business e sulla logica di costruire che è qualcosa che stiamo già facendo un ecosistema che attraverso le coperture assicurative e quindi la copertura economica del costo e dell'accesso alla giustizia ma al tempo stesso servizi che aiutano le persone ad avere la percezione se hanno diritti da tutelare e le aiutano a identificare quei diritti da tutelarli è chiaro che tutto il mondo della sostenibilità per noi ha un impatto molto forte aggiungo a questo proposito che parlando di mercato italiano la giustizia italiana è la più costosa e quella che offre il peggior servizio in termini di tempi per dirimere una controversia rispetto all'intero mercato europeo quindi si capisce perché il tema sostenibilità per noi sia particolarmente importante lo è così come lo è per tutte le altre compagnie e lo è in particolare per il modello di business che abbiamo Esatto, tutti quei cavigli e quella burocrazia che non riusciamo a scrollarci di dosso ed è questo un ottimo capitolo Allora io andrei proprio da Ciccozzi e Berengher a partire dalle considerazioni che abbiamo ascoltato e i punti fermi almeno se anche voi me li confermate abbiamo parlato di sostenibilità innovazione, impatto economico grosso, enorme che contempla tanti aspetti per tutti gli investimenti e naturalmente in primis per il comparto assicurativo Allora Ciccozzi le sue riflessioni Si impone un commento sui grandi temi ESG cioè dell'ambiente, del contesto sociale della gestione e della governabilità delle imprese poi in realtà non solo però certamente anche nel settore assicurativo Io vorrei sottolineare come già all'interno del processo di credit rating di AMBEST questi fattori sono sempre stati implicitamente considerati adesso però AMBEST ha esplicitamente integrato la considerazione dei fattori ESG insieme ai fattori finanziari tradizionali nella sua metodologia di rating del credito i fattori ESG possono logicamente avere un impatto su tutti o su alcuni in particolare dei quattro blocchi fondamentali della nostra analisi ricordo brevemente che l'analisi di rating di AMBEST si articola appunto su quattro blocchi successivi e collegati cioè l'analisi della solidità patrimoniale il bilancio insomma il risultato operativo il profilo economico di mercato e infine la gestione dei rischi aziendali Allora brevemente l'impatto dei fattori ESG è visto da un punto di vista puramente analitico quindi ci si concentra sull'effetto finale in termini di credit rating al di là di considerazioni etiche o politiche nello specifico con riferimento al bilancio l'analisi esamina gli effetti del rischio climatico in particolare l'integrazione ESG nelle attività di investimento come veniva anche ricordato poco anzi e infine le attività non recuperabili Per quanto riguarda il risultato operativo AMBEST considera in particolare l'inflazione sociale il contenzioso ESG l'impatto dell'integrazione ESG sulla verità dell'assicuratore proseguendo con il profilo economico e di mercato di una compagnia si valuta l'impatto delle esplosioni di sottoscrizione della riservatezza dei dati del cambiamento demografico e infine del rischio di reputation reputazionale a cui un'impresa può trovarsi esposta Quando arriviamo alla gestione dei rischi aziendali si tratta di considerare esplicitamente il governo societario dell'assicuratore e le prove di stress insomma, tanto per intendersi in inglese corporate governance and stress testing altri rischi sia finanziari che non finanziari operazionali o gestionali vanno infine presi in considerazione penso in particolare le esposizioni ad attacchi cibernetici che sono aumentati moltissimo durante la crisi Covid tutto questo avviene certamente in un contesto più ampio ovvero per il mercato italiano nel quadro del Green Deal mi pareva che ne avesse anche accennato a un certo punto dell'autore Andretta l'impatto economico del piano in primo luogo risulta fondamentale qui la domanda cruciale è il Green Deal vuol dire crescita o contrazione? E in quali tempi? E tutto dipende evidentemente dalla capacità di adattamento delle imprese di nuovo non solo di quelle assicurative evidentemente del resto il Green Deal potrebbe avere ad esempio un effetto medio di un certo periodo speriamo positivo ma quello che conta per il sistema Italia e per il settore assicurativo italiano in particolare sarà la nostra capacità di trarne vantaggio anche economico e di cogliere le opportunità rispondendo alle sfide che necessariamente pone abbiamo quindi delineato il quadro macroeconomico e non solo economico in cui si svolge l'analisi di credit rating di un'impresa specifica tra l'altro ricordo che MBS si occupa soltanto ed esclusivamente del settore assicurativo evidentemente la tensione puntuale che va aggiornata costantemente all'evoluzione del mercato come ricordava con precisione il dottor Bala diviene strategica in particolare a livello di cogliere i nuovi drivers nella domanda e i cambiamenti demografici e culturali dei consumatori e vorrei aggiungere e concludere questo primo intervento di Massima che la capacità di adattamento di un assicuratore da sempre importante ma ora più che mai assolutamente strategica diventa un po' la condizione necessaria anche se non sufficiente per innovare l'azienda in modo mirato rapido e sostenibile a proposito dell'innovazione magari José Berenguer può illustrarci brevemente come la metodologia di MBS la integra nell'analisi delle imprese e magari anche José può darsi il suo punto di vista un po' più analitico sul discorso SG e sul feedback che ha ricevuto dalle imprese in Italia e in altri mercati Certamente sì ottimo e poi lei stesso ha ripreso ciò che era stato detto anche prima da il dottor Andretta cioè che la sostenibilità inciderà assolutamente in modo vasto su tutte le imprese quindi comparto assicurativo ma non solo quindi è bene fare il punto allora Berenguer a lei Sì grazie se diciamo che quando parliamo di SG ad alto livello noi stiamo cercando di capire come gli assicuratori e i reassicuratori considerano i fattori ambientali sociali e di governance all'interno della loro organizzazione e in particolare nei processi decisionali sia soprattutto di investimento e sottoscrizione e quindi questi fattori sono direttamente collegati alla sostenibilità delle compagnie prima diciamo all'inizio quando si è cominciato a parlare di SG si parlava soprattutto di una gestione patrimoniale quindi dove alcuni investitori hanno iniziato a applicare specifiche esclusioni di determinati settori dai loro portafogli di investimento se non erano in linea con le loro convizioni etiche o morali diciamo e da allora il concetto è stato applicato a un certo numero di organizzazioni che sta adesso che utilizza questi tre pilastri ISG per valutare i rischi e opportunità che non vengono catturate nelle metriche finanziarie standard che sono spesso arretrate piuttosto che a lungo termine a lungo termine il loro scopo è identificare potenziali rischi e opportunità ISG e mitigare e gestire efficacemente i rischi e capitalizzare le opportunità in teoria ciò alla fine migliorerebbe la loro comprensione del rischio aumentare i loro rendimenti finanziari riducendo la volatilità e quindi creando un'azienda complessivamente più sostenibile a lungo termine poi è certo che anche quando si parla di ISG i rischi ISG non sono gli stessi per tutti i settori il che ha senso poi che alcuni rischi possono essere rilevanti per un settore ma non per un altro e anche all'interno di un settore ogni azienda può avere una propria visione di quali sono i fattori più rilevanti e materiali per loro e per esempio per fare solo un esempio se lo portiamo all'assicurazione è chiaro che un grande rassicuratore globale con una notevole esposizione alle catastrofi avrà diversi fattori ISG da considerare rispetto a un piccolo rassicuratore non vita per esempio in Italia e poi per ultimo come diceva il dottor Cicozzi noi abbiamo condotto un sondaggio ISG sui nostri assicuratori e rassicuratori europei e asiatici alla fine dello scorso anno e i risultati di questo sondaggio hanno indicato che i rischi climatici in altre parole quelli della gravità e della frequenza delle perdite dovute ai catastrofi naturali e anche quelli della responsabilità da prodotto e la governanza aziendale sono stati considerati fattori ISG altamente rilevanti alle attività degli assicuratori ok ok è assolutamente interessante vedete che cercheremo lungo tutto questo appuntamento di dare sia delle nozioni teoriche più di rapporto rispetto a quello che è successo e quello che abbiamo visto ma anche di spiegare come concretamente delle questioni e dei passaggi avverranno perché è la cosa fondamentale all'inizio di questa di questa puntata nella premessa ho anche voluto insomma mi sono sentita di evidenziare che il contesto in cui ci troviamo quello post pandemico oltre ad aver aumentato la consapevolezza proprio sui temi della sostenibilità e sui rischi ambientali cosa che abbiamo già sviluppato anche fortemente influenzato il panorama dei rischi sono proprio partita da questo da questo punto quindi il settore assicurativo cosa ha dovuto fare ha dovuto adattarsi e reagire di conseguenza a questa diversità e alle conseguenze ripeto questa parola di fattori ambientali che abbiamo elencati anche prima sono molti ambientali tecnologici sociali che hanno proprio portato nuovi rischi e modificato anche quelli che erano già esistenti a questo punto io torno da Bala poi andrei da Andretta e Ciccozzi stessa domanda per mettere anche a confronto la loro view in che modo proprio questo panorama dei nuovi rischi sta avendo e avrà soprattutto da adesso in avanti impatto sugli assicuratori e quali pensate siano davvero i rischi che le compagnie assicurative dovranno affrontare cioè li sono i principali fondamentalmente allora partiamo da Bala ma allora questo è un tema molto ampio e complesso un modo di affrontarlo è di dividere diciamo i rischi in base alla tipologia di clientela quindi clientela retail individui e le aziende per la clientela retail sicuramente ci sono due rischi che sono emersi con forza in questa situazione di pandemia sono uno alla salute quindi il rischio diciamo il timore di perdere la salute per effetto della pandemia e dei cambiamenti anche climatici un altro aspetto importante e poi il tema dell'incapacità in termini finanziari e di tempo di prendersi cura e fornire assistenza ai propri cari in età avanzata in un'Italia che già oggi ha circa 3 milioni di persone non autosufficienti numero ovviamente in crescita per via dell'allungamento della vita questo è un tema sempre più importante soprattutto in una situazione in cui il sistema pubblico che offre alcune tutele ma sono parziali e non sempre diciamo sufficienti per far fronte ai costi dell'assistenza per dare dei numeri numeri molto noti a fronti circa 35 miliardi di spesa out of pocket per la salute un decimo circa è intermediato della compagnia di assicurazione e circa 200 milioni su 3 miliardi della montagna intermediato sono i premi delle long term care quindi c'è molto da fare in questo senso per quanto riguarda poi le aziende invece quindi l'altro grande segmento di clientela ci sono tre grandi rischi che sono emersi in cui con forza il rischio cyber lavorando tutti da casa e comprando tutti da remoto ovviamente il tema dei rischi cyber è aumentato in modo significativo il tema della business interruption anche questo è un tema molto significativo e poi quello ovviamente dei rischi pandemici to cure un quarto tema importante è quello invece dei cambiamenti gli impatti di cambiamenti climatici quindi catastrofi naturali cambiamenti climatici in generale che hanno impatto poi sulla vita dell'azienda a fianco al cambiamento del panorama dei rischi accennavo all'inizio è cambiato anche il modo la modalità di utilizzo poi dei servizi assicurativi in senso stretto quindi con una crescente propensione utilizzo i canali ibridi quindi la possibilità di accedere agli intermediari il cui ruolo rimane importante però sia in modo diretto e fisico sia attraverso i canali digitali quindi da remoto in questo senso noi come Amissima Vita anche prima stiamo lavorando con i nostri distributori per ampliare la gamma prodotti per rispondere ai rischi degli individui in particolare essendo quello il nostro segmento target e stiamo anche lavorando sulle modalità appunto di accesso ai nostri prodotti quindi migliorando l'offerta digitale anche qui non parliamo di cambiamenti diciamo epocali ci stiamo lineando probabilmente ad altri settori dove la possibilità di accedere appunto ai servizi offerti via remota era già piuttosto forte quindi l'assicurazione in qualche modo sta facendo sta colmando un gap con altri settori però lo sta facendo in tempi molto molto rapidi e questo è un altro effetto acceleratore diciamo della pandemia ottimo allora Andretta a lei aggiungiamo se possibile altri elementi credo che lancio un input magari lo cogliamo adesso o più tardi insomma prima di chiudere questo appuntamento tutto sia molto collegato anche al tema della mentalità di una cultura che effettivamente è un'altra questione che è cambiata perché inevitabilmente poi quando ci sono delle evoluzioni dei cambiamenti automaticamente cambiamo anche la nostra mentalità il nostro modo di ragionare vediamo se ci arriviamo anche a questo punto visto che stiamo valutando evoluzioni cambiamenti e naturalmente in questo caso i rischi però insomma credo che faccia parte tutto dello stesso pacchetto a lei Andretta condivido grazie credo che Joseph abbia già esaminato in modo molto preciso tutta la parte dei rischi del mondo della sottoscrizione dell'underwriting e quindi sono perfettamente d'accordo tutti i temi legati a cyber al tema salute i temi legati a rischio climatico pandemie e così via generano un tema fondamentale di evoluzione di cambiamento per le compagnie d'assicurazione con e poi passo al tema della cultura di impresa sicuramente un paio di temi molto importanti ovvero io vedo più il lato il lato danni property and casualty sicuramente con un tema di capacità di costruire dei modelli predittivi per valutare i rischi e la capacità di trasformare le organizzazioni in organizzazioni data driven il mercato assicurativo il mondo assicurativo non è mai stato tra i più orientati all'utilizzo dei dati le cose stanno cambiando molto molto velocemente negli ultimi anni il cambiamento c'è già stato quindi questo è già un tema molto fondamentale molto importante soprattutto sulla parte prettamente assicurativa venendo alla domanda credo che la sostenibilità abbia a che fare anche con la cultura di impresa con la capacità di essere sostenibile di gestire la diversity e gestire per esempio strumenti come lo smart working per consentire sostenibilità laddove non necessariamente la sostenibilità anche qui mi collego a un tema che fra i grandi temi della sostenibilità messi sotto osservazione dall'ONU uno degli obiettivi di sostenibilità è proprio quello legato alla parità di genere ed è quindi chiaro che all'interno delle aziende in generale delle compagnie visto che qui ragioniamo di mercato assicurativo nello specifico la capacità di garantire sostenibilità di creare sostenibilità anche attraverso l'utilizzo di strumenti come lo smart working o per esempio l'utilizzo di strumenti come le policy di remunerazione e di crescita professionale che consentano di garantire parità dei diritti e che consentono di evitare delle storture e mancanza di parità di diritto nell'accesso alle crescite professionali per esempio nel caso di uomini donne ma questo riguarda tutto il tema della diversity è evidentemente un tema di sostenibilità molto importante su cui si può fare molto con investimenti anche limitati perché lo smart working che non è proprio un investimento limitato per farlo bene però lo smart working è sicuramente uno strumento per aiutare la sostenibilità e l'equilibrio vita privata e lavoro per tutti in generale per le famiglie dall'altro lato sistemi di remunerazione che siano governati in modo adeguato e strutturati in modo adeguato possono contribuire in modo molto forte alla sostenibilità e a ridurre iniquità e disparità di genere per esempio nelle crescite professionali e nella retribuzione quindi anche questi sono indubbiamente temi molto importanti ci aggiungo anche il tema digitalizzazione e competenze perché Joseph giustamente parlava di cambio dei comportamenti dei clienti distribuzione e via discorrendo la digitalizzazione è fondamentale per consentire sostenibilità credo che stiamo andando tutti verso sistemi ibridi dal punto di vista della distribuzione con una combinazione di fisico e digitale ed è evidente che anche qui la cultura ha a che fare con la sostenibilità quindi crescita delle competenze differenziazione delle competenze capacità di far convivere competenze tipicamente assicurative con competenze legate all'innovazione e alla tecnologia che diventa uno dei temi fondamentali per qualsiasi azienda e nello specifico per le compagnie di assicurazione assolutamente sì beh infatti sostenibilità uguale innovazione ovviamente quando si parla di innovazione c'è tutto il tema del cambiamento legato al digitale quindi sicuramente poi interessante anche il discorso del gender gap e di ciò che verrebbe risolto insomma a cascata potremmo dire così o in realtà insieme contemporaneamente se si attivassero tutte queste politiche legate alla sostenibilità quindi insomma e qui arriviamo ancora al concetto di prima che tutti dobbiamo necessariamente prendere le misure con ciò che è successo allora Ciccozzi per chiudere il cerchio rispetto a questa parte della nostra trasmissione proprio sull'evoluzione del panorama dei rischi a lei insomma non tanto le conclusioni ma insomma anche l'aggiunta quali metterebbe in pole position e in che modo si è evoluto questo panorama vorrei premettere che questo sicuramente è un periodo in cui tutti avvertiamo la necessità di un'industria assicurativa all'altezza delle sfide attuali insomma esposizioni a rischi alti e complessi quindi c'è bisogno di prestazioni e protezioni assicurative di qualità in quantità tali da rispondere alla domanda che evolve del mercato e dottor Andretta mi pare di aver segnalato giustamente le nuove esposizioni collegate al nuovo contesto del settore va ricordato sempre che si tratta non solo di rischi oggettivi cioè che esistono veramente sono reali ma anche della loro dimensione di percezione da parte di individui famiglie e aziende in questo contesto c'è anche un rischio generico un'esposizione particolare proprio degli assicuratori piuttosto che dei loro clienti che potremmo definire rischio di adattabilità ovvero il rischio di non riuscire ad adattarsi e ad adattare investimenti sottoscrizioni prodotti risk management e forse anche più importante come veniva ricordato prima il discorso di il rischio di non poter adattare la cultura di impresa alla nuova normale post covid con il risultato di perdere opportunità di sviluppo quota di mercato eccetera rispetto ai nuovi rischi specificatamente alla domanda di copertura c'è una dimensione catastrofale di alcuni rischi accanto al cambiamento delle priorità e della percezione dei rischi da parte dei consumatori in genere allora la pandemia ha senz'altro messo in evidenza per esempio il protection gap delle coperture business interruption che in Italia scatta a partire da un danno materiale quindi chiaramente il rischio pandemico non è coperto in realtà poi se ci riferiamo all'Italia storicamente il protection gap tipico del mercato italiano è quello relativo ai rischi catastrofali in genere tipo terremoto l'introduzione da parte del governo italiano di incettivi fiscali mi pare nel gennaio del 2018 se non sbaglio per aumentare l'acquisto di assicurazioni di disastri naturali ha avuto un effetto molto modesto con un tasso di penetrazione del mercato al di sotto del 4% questo rimane un problema strutturale del paese per le famiglie come per le aziende però vi corrisponde se parliamo dell'industria assicurativa a un'esposizione limitata del settore assicurativo ora tornando alla lezione specifica di covid il mercato assicurativo da solo non ha la capacità sufficiente per rispondere alle pandemie quindi una risposta in termini di copertura assicurativa potrebbe integrarsi in un piano governativo meglio internazionale almeno europeo vedremo intanto come segnalava il dottor Bala ci sono i vari segmenti di mercato e la loro domanda di protezione che è cambiata come risultato di covid della crisi economica e dell'evoluzione della percezione dei rischi appena ricordata il costo della salute per se stessi e per i propri anziani pare il rischio persone più rilevante come sempre anche un'opportunità sia pure in un contesto macroeconomico che non è facile perché dipende completamente dalle scelte di spesa delle famiglie ma non solo da questo ma anche dal loro reddito disponibile quindi ritorniamo un po' al discorso iniziale se il futuro è rosa nonostante questo periodo nero che abbiamo attraversato cioè un futuro di crescita allora tante cose tante manifestazioni della differente percezione di rischio sono possibili se no e le cose saranno diverse a livello delle aziende accanto alla business disruption c'è il rischio ciberneurico in particolare che abbiamo visto aumentare moltissimo in questo periodo ora siamo d'accordo che questo è un periodo di cambiamenti e la percezione attuale dei rischi potrebbe essere diversa nel prossimo futuro e le compagnie di assicurazione e di successo non saranno semplicemente tanto quelle che indovinano il futuro quanto quelle che si adattano meglio al cambiamento e in questo senso qui quella sarà la cultura di impresa assicurativa vincente ok ok certo perché poi se è vero che le ricette perfette non ci sono però è anche vero che ci sono degli ingredienti che invece bisogna inserire per riuscire ad andare nella giusta direzione assolutamente allora per arrivare poi alle conclusioni apriamo l'ulteriore paragrafo di questa puntata cercando di capire come rispondere al cambiamento e quali sono le aspettative per il 2022 quindi proiettiamoci verso il futuro altro step quindi io vi chiederei anche alla luce della vostra esperienza su quali aspetti sarà per voi cruciale lavorare per rispondere proprio al cambiamento e soprattutto quale panorama vi aspettate per il 2022 partirei da Bala e poi andrei da Andretta allora noi innanzitutto pensiamo di essere ben attrezzati per raccogliere le sfide discusse in precedenza e devo dire che condivido assolutamente quanto detto da ultimo dal dottor Ciccozzi in merito alla cultura aziendale alla capacità di adattarsi ai nuovi paradigmi al new normal diciamo per poter essere vincenti e al contempo come dicevo prima svolgere il proprio ruolo nella società e nel sistema economico allora per quanto ci riguarda il 2022 sarà un anno molto importante perché siamo in una fase di cambiamento noi abbiamo stiamo cambiando diciamo proprietà nel corso del 2022 entreremo a far parte di un nuovo gruppo assicurativo il gruppo Atola che è una realtà molto dinamica una delle più dinamiche nel mercato vita tradizionale europeo opera ad oggi già in 7 paesi gestisce masse per circa 90 miliardi e ha oltre 2 milioni di clienti quindi un grande gruppo paneuropeo con una visione di business di medio e lungo termine questo ci consentirà per tornare al tema della sostenibilità di innanzitutto rafforzare il nostro posizionamento di business nel settore nel risparmio assicurativo italiano continuando a offrire prodotti tradizionali quindi prodotti di ramo primo laddove il mercato oggi diciamo l'offerta si sta ritirando noi pensiamo inoltre che far parte del nuovo gruppo ci considera di rafforzare anche la strategia ISG in senso stretto beneficiando della loro notevole esperienza in altri mercati diciamo nordici dove non dobbiamo nascondere diciamo sono decisamente più avanti rispetto 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 a noi aumenteremo la quota di investimenti diretti strumenti ISG compliant dicevo prima siamo già quasi al 90% tendenzialmente arriveremo diciamo a una totalità degli investimenti in titoli ISG compliant dobbiamo certamente lavorare nel comunicare attraverso i nostri distributori meglio con i clienti in materia di una corretta strategia della protezione dei rischi perché se c'è una percezione non sempre c'è la conoscenza diciamo degli strumenti per andare a coprire quei rischi e quindi il nostro compito è quello dei distributori è quello di aiutare i clienti a identificare gli strumenti migliori per gestire i rischi percepiti che oggi spesso diciamo sono la gestione dei rischi lasciata alla troppa liquidità nei conti correnti si pensa che avere diciamo della liquidità in banca possa proteggerci quando avverranno degli eventi negativi mentre l'assicurazione ha un compito ben preciso nella gestione dei rischi e poi come diceva prima il dottor Andretta sicuramente la cultura aziendale si muoverà sempre di più in un contesto ISG e noi crediamo che il new normal sarà un equilibrio diverso tra casa e lavoro e quindi il ricorso stabile al lavoro agile con le conseguenze cascata che questo può avere appunto sul gender gap e tematiche di questo tipo che sono assolutamente importanti allora panoramica anche da parte di Andretta come anticipavo già poco fa a lei sì beh allora utilizzo il nostro mercato che può essere paradigmatico rispetto al mercato danni non auto giusto per noi dicevo ci occupiamo di tutela legale che è un mercato che risponde è una copertura che risponde a un bisogno di massa se guardiamo al mercato italiano abbiamo una spesa pro capite in questo segmento di circa 7 euro pro capite nel resto d'Europa le spese pro capite sono 3 4 in alcuni paesi addirittura 5 volte tanto il mercato italiano vale poco più di mezzo miliardo il mercato tedesco vale più di 4 miliardi complessivamente stiamo però parlando di un mercato che viene percepito come un mercato di nicchia ma in realtà risponde a un bisogno di massa perché dicevamo che la giustizia italiana non dà un grande servizio l'accesso alla giustizia è piuttosto costoso perché questo perché questo prodotto è stato venduto lungamente come un accessorio partendo dal contratto anziché partire dal bisogno quindi qual è per noi uno dei temi fondamentali è la costruzione di quello che noi chiamiamo un ecosistema la parola è un po' di moda ma cerchiamo di applicarla nella sostanza oggi il mercato assicurativo si sta muovendo in generale sulla logica degli ecosistemi ecosistemi salute ecosistemi legati alla mobilità e via discorrendo per noi questo che cosa vuol dire fondamentalmente vuol dire associare alla copertura assicurativa e quindi alla tranquillità economica una serie di servizi che aiutino il cliente ad avere supporto conoscenza dei diritti che deve far valere in modo che sia supportato in una logica più ampia rispetto alla pura logica risarcitoria tradotto in pratica vuol dire che il network di 800 avvocati che collabora con noi è fondamentalmente un asset che il cliente può utilizzare in modo proficuo le competenze interne possono generare servizi dedicati su tematiche specifiche per esempio covid e la complessità normativa che è stata generata dal covid e le incertezze i contenziosi lavoristici e via discorrendo così come la digitalizzazione può consentire di dare delle piattaforme che noi già abbiamo che sono piattaforme tecnologiche che consentono ai clienti di verificare l'esistenza di un diritto e quindi di utilizzare le coperture assicurative in modo proattivo tutto questo per noi è fondamentale insieme a questo la digitalizzazione sia in una logica di efficienza che di ibridizzazione e di della distribuzione e di aumento della frequenza di contatto con il cliente e poi tutto il tema della cultura di impresa gestione della diversità gender gap e in particolare lo smart working come strumento fondamentale per garantire sostenibilità oggi per le persone che lavorano all'interno dell'azienda ecco l'importante è saperlo declinare bene perché poi mi ricollego a quello che ha detto poco fa parlando di ecosistema che è una delle parole di moda che usiamo di più ce ne sono tante di parole che abbiamo cominciato a usare e però insomma devono rappresentare poi concretamente qualcosa per quello che anche poco fa ho detto obiettivo e penso che lo stiamo anche raggiungendo di questa tavola rotonda appuntamento televisivo chiamiamolo come vogliamo è proprio quello di parlare di temi appunto che sono diventati di moda e di cui tutti sentiamo parlare e che tutti nominiamo almeno una volta al giorno almeno una volta però dare un riscontro poi concreto cioè cercare di capire come farà devolvere lo stesso smart working no? cioè non possiamo limitarci a quello che abbiamo vissuto in periodo emergenziale questo vale per tutto il resto fino ad arrivare a temi molto più complessi come quelli che racchiudono la sostenibilità e ciò che stiamo raccontando io andrei da Berenguer perché anche qua un'altra parola riprenderei una parola che dobbiamo cercare di comprendere sempre meglio questo new normal l'abbiamo nominato anche più spesso anche spesso in questo appuntamento stando alle vostre previsioni quindi ragionando un po' sul vostro settore quale scenario ci possiamo aspettare in quello che è considerato il new normal e appunto le chiedo insomma se in qualche modo a suo parere lo chiedo con un sorriso abbiamo compreso che cosa si intende per new normal cioè qual è la nuova normalità direi dal nostro punto di vista direi che capire cosa è il new normal adesso magari è troppo presto noi abbiamo fatto due perspettive di mercato sia una per quello che è il settore danni in Italia e un'altra per quello che è il settore vita e quelle due sono un po' diverse quindi lasciatemi fare un piccolo commento su quello che è danni e poi parlare un pochino su quello che è vita per quanto riguarda danni la nostra prospettiva è più stabile diciamo che prevediamo che il settore continuerà ad avere una forte relatività di stoscrizione per quello che l'auto abbiamo visto come nel 2020 il livello di redditività è stato diciamo molto forte è dovuto a una diminuzione della frequenza di sinistri in quanto come sappiamo l'uso dei veicoli è diminuito a causa delle misure restrittive come è stato il periodo di lockdown ma anche nel 2021 questo ramo rimane particolarmente redditizio anche se ci aspettiamo una redditività minore che nel 2020 quindi un combine ratio superiore superiore a quello del 2020 ma ancora sotto a quello che è diciamo la media storica perché continuiamo a vedere una frequenza più bassa di quello che abbiamo visto storicamente poi per quello che riguarda quello che riguarda gli altri rami quelli non auto per quelli diciamo che è già da anni che vediamo una redditività tecnica forte e su quei rami continuiamo ad aspettare una redditività tecnica in quella linea quindi non aspettiamo grandi cambiamenti su quei rami lì e per poi per quanto riguarda i volumi di premi nel mercato abbiamo visto un caldo dei volumi di premi nel 2020 anche in particolare sul ramo auto sia per il livello di concorrenza del mercato sia anche per questa aumentata redditività e noi aspettiamo che continueremo continueremo a vedere questo calo dei volumi di premi nell'auto nel 2021 poi per quello che è il non auto abbiamo visto un leggero cano nel 2020 ma stiamo vedendo adesso una ripresa nel 2021 soprattutto in particolare su quello che è malattia che sta avendo una forte crescita e sicuramente questo è molto legato alla situazione della pandemia poi come dicevo la situazione come dicevo prima la situazione è un po' abbastanza diversa per quello che riguarda il settore vita e infatti su questo settore la nostra perspettiva è negativa nell'analisi che abbiamo fatto su questo settore viene molto considerata la cogiuntura economica in cui si trova Italia che come sappiamo ha sofferto un forte impatto a causa della pandemia ha raggiunto un rapporto debito-pill sopra il 150% e anche abbiamo visto un alto grado di volatilità ancora nei mercati finanziari quindi questi elementi hanno un impatto negativo sul settore vita sia a livello di premi sia a livello del rischio dei portafogli di investimento e anche di capitale regolamentare per quello che sono i volumi di premi nel settore vita abbiamo visto un calo molto forte nel 2020 come dicevo correlato alla situazione economica del paese ma adesso stiamo vedendo una ripresa molto forte nel 2021 che è anche molto legata al canale Banca Assurance che come sappiamo è quello che ha sofferto di più con la pandemia ma che adesso diciamo con questa situazione new normal diciamo ha tornato a poter riaprire diciamo a livelli normali e quindi aspettiamo che questa crescita continuerà ancora nel prossimo anno e poi per ultimo quello che volevo dire è che visti gli impatti del contesto economico e del profilo di rischio dei portafogli il settore come abbiamo detto rimane molto esposto alla cogiuntura economica e quindi l'evoluzione del settore sarà molto legata a quella dell'economia italiana e certamente all'evoluzione della pandemia in Italia e anche a livello globale ecco che poi tutto quello che lei sta dicendo cioè alcuni punti che ha toccato si ricollegano al tema della fiducia perché poi insomma ha pronto la pandemia ha portato con sé tante incertezze che poi si collegano direttamente anche ai rischi nuovi di cui parlavamo però il tema della fiducia ecco le posso chiedere un cenno su questo è una domanda fuori programma ma insomma poi magari lo chiedo anche agli altri ospiti visto che abbiamo giusto ancora due o tre minuti prima di salutarci perché questo è fondamentale la fiducia che ci permette anche di affrontare determinate sfide e purtroppo però il tema della fiducia è stato molto molto penalizzato ecco certo diciamo che quando c'è una situazione di incertezza così come quella che è stata lo scorso anno i livelli di fiducia sia in Italia sia a livello globale cadono e diciamo che i consumatori dubitano molto di più su cosa fare quindi questo ha un impatto molto grande sulla sull'economia e alla fine il settore assicurativo in questo caso è molto legato all'economia certo dal momento in cui questi livelli di incertezza cominciano a cadere la situazione come vediamo adesso torna un po' più alla normalità come stiamo vedendo la situazione economica riprende e questo come dicevo prima ha un impatto molto molto legato al settore assicurativo e come stiamo vedendo i volumi di premi stanno salendo e anche a livello di redditività vediamo una crescita esatto questo è interessante è un po' quello che in finanza si chiama sentiment però il discorso è che poi viene monitorato da giustamente da tutti i settori e figuriamoci da quello assicurativo che ha direttamente relazione insomma con quanto ci si attende per il futuro quindi sicuramente ma io giusto proprio in conclusione farei un ultimo giro di riflessioni su questo tema partirei da Bala stessa cosa chiedo a lei poi naturalmente vado anche da Andrete Ciccozzi la fiducia e poi appunto se siamo pronti ad affrontare tutti questi cambiamenti che abbiamo spiegato che abbiamo anzi che avete sicuramente in modo puntuale raccontato in questa in questa occasione io credo che si debba avere fiducia questa situazione di pandemia ha dimostrato che l'essere umano diciamo è capace di grandi di grandi gesti di grandi slanci e soprattutto lo è nei momenti di maggiore difficoltà se pensiamo ai vaccini al tempo al tempo intercorso diciamo tra l'immersione della pandemia e una campagna vaccinale che perlomeno al mondo diciamo avanzato ha portato a oltre 80% degli over 12 a vaccinarsi questo è un elemento che ci deve dare fiducia anche nel futuro quindi la capacità di del progresso di risolvere situazioni complicate come quelle generate dalla pandemia andando più nel micro invece anche noi vediamo una ripresa della fiducia da parte dei consumatori lo vediamo nei nostri nei nostri numeri che sono quest'anno decisamente migliori rispetto a quei dell'anno scorso in termini di volumi premi e lo vediamo in generale poi anche nell'andamento dei mercati finanziari che dimostrano di aver fiducia in una robusta ripresa economica quindi vorrei chiudere con una nota di ottimismo assolutamente sì è doveroso anche perché se no di cosa stiamo qua a discutere chiaramente poi misurando un po' tutto quello che ci si pone di fronte allora Andretta stessa cosa lei per chiudere mi associo alla nota di ottimismo ma mi sembra assolutamente corretta perché la capacità del sistema di resistere anche qui il termine collegato è un po' di moda la resilienza però è un fatto è oggettivo il sistema nel suo complesso è riuscito a resistere ad una situazione totalmente nuova totalmente inaspettata il rimbalzo dobbiamo essere consapevoli del fatto che un rimbalzo che stiamo vedendo contribuisce a dare fiducia rispetto alla capacità di continuare ad essere competitivi anche noi vediamo risultati positivi per il futuro credo che un po' tutte le imprese abbiano molto lavoro da fare perché il new normal che si prospetta nel medio lungo periodo è un new normal decisamente complicato che presuppone che determinati percorsi di innovazione e cambiamento che sono stati iniziati la mia impressione è che il settore assicurativo abbia già iniziato da alcuni anni un percorso di innovazione e cambiamento ma sicuramente sono percorsi che devono continuare ad essere portati avanti con molti investimenti molto impegno e molta determinazione con la digitalizzazione ovviamente a fare da filo conduttore insieme alla sostenibilità su tutte le azioni esatto concretezza insomma Ciccozzi per chiudere a lei sì sono d'accordo con tutte le osservazioni e i commenti che sono stati fatti posso solo aggiungere un tentativo di provocazione cioè nel fatto che se avevamo in passato prima di tutto questo di tutte queste cose perché non è in realtà la prima crisi che passiamo abbiamo avuto una finanziaria orripilante nel 2008 adesso pure questa forse il futuro certo c'è bisogno di fiducia ma potrebbe essere appunto ricollegandosi a questa parola magica dell'ecosistema una fiducia più cooperativa cioè non il mondo cosiddetto teorico trasparente in cui tutti si facevano a concorrenza agguerrita gli uni con gli altri ma in effetti la fiducia del futuro potrebbe essere un punto di domanda una fiducia in cui si coopera di più tutti insieme un po' come cerchiamo di fare in questo forum anche rispetto all'audience in cui persone personaggi diversi da parti pezzi settori mini segmenti dell'industria che però è la stessa corrisponde cioè in effetti si aiutano discorrendo discutendo temi ad andare avanti e questa forse è la prova della fiducia che avremo in futuro assolutamente beh questo ma come provocazione ci sta insomma effettivamente è corretto anzi è una provocazione che dovremmo avanzare tutti quanti proprio per guardare con ottimismo al futuro che è quello che si diceva poco fa bene allora io vi ringrazio perché naturalmente è stato un forum come l'ha definito adesso Riccardo Ciccozzi ma in generale è stato qualcosa di più dove abbiamo condiviso tante questioni importanti come detto in questo caso ci riferivamo al settore assicurativo ma sono considerazioni che tutti facciamo ogni giorno nel nostro ecosistema appunto visto che abbiamo usato questa parola quindi io ringrazio intanto Josef Bala Andrea Andretta Riccardo Ciccozzi e Ose Antonio Berengher naturalmente per essere stati con noi grazie mille grazie a voi grazie a voi arrivederci grazie a voi vi aspettiamo naturalmente per le nostre tv week dedicate perché naturalmente su questi questi argomenti come avete detto anche voi devono essere portati avanti quindi non ci possiamo limitare a ciò ma insomma credo che siate tutti d'accordo e naturalmente io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguiti speriamo di essere stati utili come sempre e vi aspetto ad altri appuntamenti di New Insurance e non solo sulle fonti tv buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti